Sono molto fiera di introdurre un nuovo gruppo che proviene dal mio paese di provenienza in Basilicata, nel sud dell'Italia. Il gruppo si chiama I Briganti Montesi e sono venuti qui in Canada, a Toronto, direttamente dall'Italia, per farci ascoltare i canti popolari che sono parte della cultura italiana e non solo, della nostra provincia del Materano, la Basilicata. Ascoltiamoli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.